È stato il mare il grande protagonista dell'estate 2021 dal punto di vista del turismo in Toscana, con una ripresa in termini di presenze rispetto all'anno precedente, condizionato dal Covid, e la costa è sold out fino a metà settembre. A dirlo è Alessandra Signori, referente toscana di Property Manager, l'Associazione degli Imprenditori degli Affitti Turistici. La costa toscana è sold out fino a metà settembre, sottolinea Signori in una nota, con una netta maggioranza di europei ed italiani. Per quanto riguarda le città, Signori segnala un aumento degli arrivi di studenti stranieri. Numeri positivi in particolare per Viareggio, che vede una crescita del fatturato di tutte le strutture ricettive del 26,3% a luglio rispetto all'anno precedente. Ancora non siamo ai livelli pre-Covid, meno 15,8% per Viareggio rispetto al 2019, ma è un segnale di ripresa. L'estate 2021 conferma poi la tendenza a viaggi di prossimità, con la qualità irraggiungibili con mezzi propri. Questo vale sia per gli italiani che per gli stranieri, sia utilizzata prevalentemente l'auto, con una durata media di soggiorni di una settimana, anche se i proprietari di case vacanze hanno registrato che molte persone hanno scelto periodi più lunghi, arrivando fino a 21 giorni.